Bentornati a The Icons, la nostra rubrica sulle foto più iconiche della storia della fotografia. Oggi ho scelto un fotografo più recente, un fotografo molto molto interessante che lavora soprattutto sul ritratto, ma non solo perché è capace di raccontare delle storie e dei veri propri film grazie alle sue fotografie. Questo fotografo è Erwin Olaf. Erwin Olaf è un fotografo olandese, è nato nel 1959 e oltre a fare fotografie fa anche video e installazioni. È veramente un artista completo, molto molto particolare. È un artista che è capace di creare immagini veramente scioccanti, a volte veramente sconvolgenti, altre invece di una delicatezza estrema, quindi riesce benissimo a muoversi sugli opposti. È stato molto complicato scegliere delle foto da farvi vedere perché i suoi progetti andrebbero visti nella loro interezza, quindi vi do dei suggerimenti. Poi vi invito ad andare sul suo sito a guardare meglio tutti quanti i suoi progetti e apprezzare queste storie che sono fatte sia di foto che di video. Però vediamone alcune per darvi un po' di suggerimenti, darvi un po' di suggestioni. Cominciamo col primo progetto. La prima foto che ho scelto è tratta dal progetto Chessman. Chessman sarebbero i pezzi degli scacchi, quindi questo progetto è vagamente ispirato ai pezzi degli scacchi, ma in realtà non si esce bene a capire a quali pezzi degli scacchi si riferiscono alle varie immagini. Mi piace molto, è molto diverso dagli altri suoi progetti, infatti è uno dei più vecchi di quelli che ho scelto perché è degli anni Ottanta, di fine anni Ottanta. Qui lui lavora con la fotografia di studio, con questi oggetti veramente curiosi e crea degli scenari, crea delle composizioni utilizzando il corpo umano e gli oggetti per realizzare le figure stranissime che in apparenza non hanno alcun significato, sembra che gli oggetti siano messi lì a caso. In realtà sono immagini forti di simboli, veramente cariche di molti simboli e quindi riescono a dare tantissime suggestioni diverse. Io ho scelto questa che è una delle più tranquille, tra virgolette, perché alcune immagini sono veramente pesanti, anche un po' quasi pornografiche diciamo, però questa è una delle più sensibili in cui queste corna sul capo, questo masso che schiaccia il corpo, che comunque cerca di creare questa posizione plastica, però ha delle scarpe da donna, degli stivarti da donna, quindi si creano tanti simbolismi e lui gioca anche molto comunque sull'erotismo e sul confine tra la figura maschile e la figura femminile, che poi è una caratteristica che si trova in moltissimi altri dei suoi lavori. La seconda foto invece fa parte di un progetto molto più recente. Lui ha creato recentemente una trilogia di lavori fotografici che sono legati a delle storie, quindi delle storie che vanno dalla giovinezza all'età adulta fino alla vecchiaia. Il secondo dei suoi progetti parla di Shanghai e lo fa creando una sorta di storia, una storia che non è di chiara lettura ma che comunque dà moltissime suggestioni. È una storia che parla in particolare del rapporto tra uomo e donna, ma soprattutto del ruolo della donna nella società cinese, una donna che non ha gli stessi diritti dell'uomo, che ancora ha un ruolo di secondo piano. Tra le foto che lui ha scatato io ho scelto questa perché mi ha colpito molto quando l'ho vista. Questa donna con questi occhi bendati, con questi quadratini, quasi delle pecette, quelle che si mettono quasi criminali nelle foto, mi ha colpito molto perché lei che guarda attraverso questa porta, apre questa porta, guarda ma non può guardare perché ha gli occhi bendati, quindi è proprio un simbolo di tutto ciò che è nascosto quindi alla figura femminile o che non vuole essere visto in un certo senso, quindi mi ha colpito veramente molto. Lui lavora adesso quasi soltanto a colori, quindi le sue foto sono quasi soltanto a colori e utilizza delle luci comunque cinematografiche, quindi hanno un effetto molto particolare le sue foto, sembrano sempre prese da dei set, hanno anche un effetto molto pittorico per questa resa molto profonda dei colori, delle ombre, veramente molto interessante il suo tipo di fotografia, è un tipo di ritratto molto particolare, molto profondo, pieno di significati ma anche a livello estetico estremamente curato, ogni dettaglio è lì per dire qualcosa, ogni cosa al posto giusto, non c'è niente fuori posto. Questa foto comunque è molto forte, mi ha colpito di questo progetto, però vi invito ad andare a vedere anche le altre immagini. La terza foto che volevo mostrarvi fa parte del terzo progetto di questa sua trilogia, la prima parte era Berlino, la seconda è Shanghai, la terza parte è Palm Springs, quindi andiamo negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono rappresentati da questa foto che mi ha colpito molto tra tutti i ritratti della serie, perché c'è questo ragazzino vestito in maniera presidenziale su questa poltrona più grande di lui, però veramente sembra un ritratto da presidente degli Stati Uniti. Mi ha colpito molto questa immagine proprio anche per questo sguardo di questo ragazzino, per questo sguardo algido, questi capelli così super biondi, ovviamente ho pensato subito a un Trump da piccolo e ho pensato anche a come ci sia un po' questa ossessione negli Stati Uniti per il successo personale e il successo è sempre inteso con l'ultimo step e diventerai presidente degli Stati Uniti. Quindi quest'idea dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi bianchi, crescono con l'idea di ok, se tu hai veramente successo nella vita, un giorno diventerai presidente, come se fosse una conseguenza proprio delle azioni proprio precisa, come se non fosse qualcosa di veramente invece difficile da raggiungere. O meglio, visto come un'idea è da raggiungere, ma comunque è sempre possibile. È auspicabile, cioè se sei veramente bravo lo diventerai, se non lo diventerai vuol dire che non sei stato abbastanza bravo. E questa immagine mi ha fatto pensare a questa cosa, a questa sensazione di anche costrizione che vivono alcuni ragazzi a dover fare cose che non vorrebbero fare, quindi essere instradati verso un percorso che invece non vorrebbero intraprendere. Però in realtà questo ragazzino mi sembra abbastanza assuaggio sulla poltrona, quindi forse, forse, in realtà lui ci sta bene, è proprio quello che voleva fare, essere lì e diventare presidente degli Stati Uniti. L'ultima foto che ho scelto è l'ultimo lavoro che ha realizzato Erwin Olaf, ed è un lavoro che lui ha realizzato proprio durante la quarantena. Si chiama April's Fool 2020, quindi il matto di aprile 2020, o meglio lo scherzo di aprile, no? April's Fool è il primo aprile, quindi è lo pesce d'aprile da noi si chiama. E il grande scherzo è stato proprio l'arrivo della pandemia negli Stati Uniti, che lui ha vissuto in maniera, diciamo, è rimasto sconvolto, come siamo rimasti sconvolti un po' tutti, e quindi ha reagito come molti artisti creando qualcosa, quindi rappresentando quello che stava vivendo. E ha creato questo progetto in cui lui è un po' questo matto, questa figura, questa maschera un po' scioccata che gira per questa città, che gira per questi luoghi che un tempo erano familiari e adesso lo sono più. In particolare uno dei protagonisti di queste immagini è proprio il supermercato, che lui dipinge così quasi vuoto, con questi scaffali vuoti. C'è anche il cassiere che è matto, ha la stessa sua maschera e lo stesso cappello, quindi vuol dire che siamo tutti un po' matti, un po' scioccati, un po' fuori dal normale, in una situazione che comunque è anormale per tutti. Però questa immagine mi ha molto colpito proprio per questi sguardi anche così, persino il vuoto, un po' scioccati, che non sanno dove guardare, che sono proprio dispersi. Quindi è un progetto che mi è molto piaciuto, mi ha veramente fatto riflettere, l'ho trovato molto adatto e molto simbolico rispetto a quello che lui è andato a raccontare e rispetto alla situazione generale. Quindi un fotografo veramente peculiare, come avete visto, capace di raccontare delle cose in maniera molto profonda e molto diversa tra di loro. Vi invito veramente ad andare sul suo sito, ad approfondire i suoi progetti fotografici perché sono incredibili, veramente molto profondi e ricchi di emozione. È veramente un viaggio emozionante andare a vedere i suoi progetti fotografici. Vi consiglio anche questo libro, io l'ho acquistato appena l'ho visto perché è una sorta di antologia di tutti i suoi ultimi lavori, non ha proprio gli ultimissimi, però ne ha parecchi, diciamo fino intorno al 2012-2014, così ci sono più o meno tutti quanti i suoi lavori più importanti e vi dà una panoramica generale del suo lavoro. La cosa interessante è che i lavori non sono messi in ordine cronologico ma sono un po' sparpagliati e crea un'unica narrazione, come se fosse un unico lavoro fotografico che abbraccia tanto tempo. Quindi veramente un libro interessante per approfondire questo fotografo così unico nel suo genere. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, ci rivediamo alla prossima. A presto, ciao!